Come nel piccolo paese di Barbiana, anche ad Alghero la figura di Don Milani è stata circondata dai ragazzi. Il Salone del Cavalmarì si è riempito sabato pomeriggio per l'apertura della mostra dedicata al prete fiorentino. È ormai da qualche mese che la Rivera del Corallo ospita convegni, conferenze e seminari sul religioso. Un sacerdote atipico che ha sfidato i poteri forti e ha dato una scossa al mondo dell'istruzione. Confinato in un paesino, ha creato una scuola all'avanguardia dove insegnava ai ragazzi a costruirsi un futuro con la conoscenza. All'inaugurazione non sono mancati politici e personaggi pubblici, ma il compito di ricordare la figura di Don Milani è toccato al vescovo Giacomo Lanzetti. Le immagini che arrivano ad Alghero dopo aver girato l'Italia mostrano l'uomo con i suoi ragazzi, sui pannelli, foto sbiadite di bambini in calzoni corti e le frasi che poi sono diventate un libro, lettera a una professoressa. Per Don Milani la scuola doveva voltare pagina. Oggi la sua lezione è il punto di partenza per l'intera manifestazione. Nei prossimi giorni l'azione cattolica e la Caritas incontreranno gli studenti e il personale scolastico per concentrarsi sulle nuove sfide del mondo dell'istruzione. Gli appuntamenti proseguiranno anche lunedì 19, ma questa volta a Bosa, dove la mostra si trasferirà fino al 22 maggio.